Cari amici followers, mentre oggi martedì 17 novembre 2015 la follia iniziava di buon'ora con un ottimo odore di stinco di maiale che saliva dal pavimento, i miei sequestratori si lamentavano che sono un pessimo ostaggio e sarebbero pertanto felici di vedermi ritornare a casa. Non c'è problema, rispondevo, basta farmi passare attraverso la stessa porta dimensionale dalla quale sono arrivato, se non che i soliti maligni malignano che sul pianeta Terra un certo Papa Francesca e la sua fidanzata, Papa Nero, tengano ben chiusa quella porta dimensionale e facciano i capriccetti perché sul loro pianeta non ci devono essere persone intelligenti, né tantomeno etero, né tantomeno democrazie. Auguri pianeta Terra, ci vediamo nei prossimi Video Messaggi